è completamente tale struttura nel senso che dovrei rivedere il tetto ci stanno a rivedere alcune cose la casa è tanto che è chiusa infatti qui anche le piccole parti d'intonaco però strutturalmente non soffre negli angoli non abbiamo grandi macchie o cose è chiaro che questa è una camera due camere questa è un'altra camera adesso non si vede ma un'altra camera poi qui abbiamo il bagno eccolo qua e qui c'è chi si esce dall'altra parte c'è questo giardino c'è un sottotetto mi sembra anche abbastanza alto la parte centrale potrebbe arrivare anche a un metro ottanta secondo me comunque è comodo questo è quanto l'indipendenza è chiaro che qui c'è da spendere un lavoro ristrutturato c'è bisogno di essere rivista però adesso io mi informo bene vediamo che riuscimo a fare chiamiamolo un affare eccola qua faccio a rivedere divisa pure abbastanza bene e questo è il spazio esterno facciamo cancellare le proprietà ecco qua